Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova lezione sulle frazioni. In questa lezione vedremo un nuovo insieme di numeri. Finora abbiamo sempre lavorato con i numeri naturali. Abbiamo studiato bene questo insieme numerico, abbiamo visto tutte le varie proprietà e le operazioni che sono interne naturali e quelle che non sono interne naturali. Oggi andiamo ad ampliare l'insieme dei numeri naturali in modo tale da poter effettuare anche la divisione, perché come sapete la divisione non è interna ad n. Vi ricordo, piccola parentesi, che la divisione non è interna ad n perché se io prendo due numeri naturali, quindi all'interno di n, vado a fare la divisione, non sempre il risultato rimane in n. Ad esempio, se vado a fare 8 diviso 4 ottengo 2, che è un numero naturale, ma se vado a fare 8 diviso 5 non ottengo un numero naturale, quindi la divisione non è interna all'insieme dei numeri naturali. Per questo motivo dobbiamo andare ad ampliare questo insieme e andare poi ad ottenere un nuovo insieme numerico, che si chiama insieme Q. La Q io la farò sempre così per far vedere che è in grassetto, un insieme Q. Q significa quoziente, proprio da divisione, quindi tutto il ragionamento abbiamo fatto finora. Quindi l'insieme Q contiene tutti quei numeri che si chiamano numeri razionali assoluti. Allora, voi potreste chiedervi ma cosa c'entra tutto questo con le frazioni? Abbiamo detto che la lezione è sulle frazioni. Allora, facciamo un passo indietro alla lezione precedente. Nella lezione precedente abbiamo studiato le frazioni equivalenti e abbiamo visto, ad esempio, che 2 terzi si può vedere come rappresentante della classe delle frazioni equivalenti a 2 terzi. Equivalenti a 2 terzi, quindi abbiamo se stesso, poi abbiamo 4 sesti, abbiamo 6 noni, 8 dodicesimi e così via. Abbiamo visto che le frazioni equivalenti ad una frazione data sono infinite e abbiamo preso 2 terzi come frazione rappresentante di classe, ossia quella frazione generatrice che va a generare tutta la classe delle frazioni equivalenti a 2 terzi. Tutte queste frazioni che noi abbiamo scritto tra parentesi graffe, quindi per elencazione, tutte queste rappresentano la stessa grandezza, se andiamo ad operare sullo stesso intero. Per questo motivo, se tutte queste che sono equivalenti, ossia rappresentano la stessa grandezza, devono corrispondere necessariamente allo stesso numero. Quindi tutte corrispondono a 2 terzi. Allora, 2 terzi si chiama numero razionale assoluto. E quindi ogni frazione di questa classe lo può rappresentare. Quindi, numero razionale assoluto. Assoluto lo aggiungiamo perché vedremo in terza media che esistono anche quelli negativi. Quindi noi per ora ci fermiamo ai numeri razionali assoluti e quindi Q lo scriveremo in questo modo. Q, come ho scritto prima, è una A piccola sotto i numeri razionali assoluti. Quindi 2 terzi è un numero razionale assoluto. E allora possiamo dedurre che tutti i numeri razionali assoluti sono frazioni. Quindi tutte le frazioni che abbiamo studiato finora sono dei numeri. E questi numeri si chiamano numeri razionali. Si chiamano razionali perché li posso scrivere sotto forma di frazione. Razionali perché dal latino razio significa rapporto. E il rapporto in matematica è proprio la divisione e quindi la frazione. Quindi si chiamano numeri razionali assoluti perché sono rappresentati da un rapporto, ossia da una frazione. Mentre i numeri naturali erano quelli che noi utilizziamo naturalmente per contare. Adesso però andiamo a vedere il collegamento con i numeri naturali. Quindi andiamo a rappresentare graficamente questo insieme dei numeri razionali assoluti. Noi sappiamo rappresentare tramite i diagrammi di Oleroven gli insiemi. Allora, questo è il nostro insieme N. L'insieme dei numeri naturali. Che vi ricordo scrivo così per indicare che è grassetto. Allora, qui dentro noi abbiamo 0, 1, 2, 3, 4 e così via. Però qui dentro non possiamo sempre fare la divisione. Allora, ad esempio, se io devo andare a fare 1 diviso 2, che sappiamo fa 0,5, non sta nei naturali. Allora lo scrivo così, 1,5 e sta fuori da N. Anche se devo andare a fare 2 diviso 3, lo scrivo fuori, 2 terzi, perché abbiamo visto che le frazioni sono proprio divisioni. Quando abbiamo fatto la lezione, la frazione come divisione, che trovate sempre qui sul canale. Allora, tutte queste frazioni che rappresentano divisioni con il resto, ossia divisioni che non hanno risultato in N, andranno a finire in un altro insieme che è proprio l'insieme Q. E quindi vado a fare un insieme più grande fuori rispetto ad N e questo è l'insieme dei numeri razionali assoluti. Ossia tutte quelle frazioni, che sono infinite, che non sono numeri naturali. Perché abbiamo visto che le frazioni apparenti in realtà sono dei numeri naturali. Però vedete che N sta all'interno di Q. Questo perché i numeri naturali sono proprio delle frazioni apparenti, sono delle frazioni con numeratore 1. Ad esempio, 3 io lo posso scrivere come 3 primi, 2 lo posso scrivere come 2 primi, e così via. Quindi tutti i numeri naturali in realtà sono frazioni con denominatore uguale a 1. Quindi l'insieme dei numeri naturali è un sottoinsieme dei numeri razionali assoluti. E si rappresenta graficamente in questo modo e con i simboli così. N è contenuto in Q. Ripetiamo perché? Perché i numeri naturali si possono scrivere come frazioni con denominatore 1. Allora, andiamo a scrivere la definizione di numero razionale assoluto. Quindi chiamiamo numero razionale assoluto ogni classe di frazioni equivalenti tra loro. Allora, riprendiamo il nostro esempio. Il rappresentante 2 terzi della classe di frazioni equivalenti a 2 terzi. Quindi 2 terzi, 4 sesti, 6 noni e così via. Tutte queste frazioni sono equivalenti a 2 terzi, ossia rappresentano tutte la stessa grandezza. Allora vado a rappresentare graficamente 2 terzi sulla semiretta dei numeri. Noi sappiamo, perché abbiamo studiato la semiretta in geometria, che la semiretta è formata da infiniti punti. Abbiamo anche detto che i numeri naturali sono infiniti, quindi già i numeri naturali occupano infiniti punti sulla retta. Ma abbiamo visto che non occupano tutti i punti della semiretta. E anche i numeri razionali, quindi le frazioni, anche loro non rappresentano tutti i punti della retta. Ma rimarranno degli spazi vuoti. Questi spazi vuoti, che rimangono tra i vari numeri razionali, verranno occupati il prossimo anno dai numeri irrazionali. Che studieremo quando faremo la radice quadrata. Allora, andiamo a posizionare l'origine, O, e andiamo a scegliere l'unità. Mettiamo lo sfondo a quadretti, così riusciamo a dividere meglio la semiretta. Allora, quindi, semiretta, origine O, e scegliamo come unità di misura questa. La scelgo lunga 6 quadretti, tanto posso scegliere io quanto deve essere lunga l'unità. Allora, ogni 6 quadretti vuol dire che ho un numero naturale, quindi 1, 2, 3, 4, e così via. Vi ricordo che la freccetta verso destra è fondamentale perché indica verso dove crescono i numeri. Allora, andiamo a rappresentare 2 terzi. Per rappresentare 2 terzi, devo andare a dividere la mia unità, ossia questa, in 3 parti uguali e prenderne 2. Allora, la vado a dividere in 3 parti uguali, quindi devo rappresentare 2 terzi, divido in 3 parti uguali, e ne prendo 2. Quindi 2 terzi sta qui, 2 terzi. E chiamo A il punto in cui si trova. E quindi dirò che il punto A è l'immagine di 2 terzi, in modo preciso della classe di equivalenza di 2 terzi, che è quella che abbiamo visto prima. Proviamo a rappresentare un altro numero, ad esempio 5 sesti. Allora, andiamo a rappresentare con il verde 5 sesti. Allora, cosa faccio? Prendo l'unità, la divido in 6 parti, e ne prendo 5. 1, 2, 3, 4, e 5. 5 sesti sta qui. Punto B. Quindi posso già vedere dalla semiretta che 5 sesti è più grande di 2 terzi. Posso anche andare a rappresentare una frazione impropria su questa semiretta, ad esempio 7 sesti, che è impropria perché il numeratore è maggiore del denominatore. Vado a dividere la mia unità in 6 parti, ma ne devo prendere 7. Allora, non basta, allora divido in 6 parti pure l'unità successiva, ossia l'intero successivo. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto A, che è l'immagine di 7 sesti. Quindi, se dovete rappresentare le frazioni apparenti, dovete dividere più unità, ossia più interi in parti uguali. Per questo motivo dovete scegliere in modo furbo la lunghezza dell'unità, cioè prendete un numero che sia divisibile facilmente per i denominatori delle frazioni che dovete rappresentare. E quindi, in questo modo, riusciamo a rappresentare i numeri razionali assoluti, vi ricordo, assoluti vuol dire positivi, sulla semiretta dei numeri. E tutte le parti che rimangono senza rappresentante, quindi senza numero, quindi tutti quei punti che non vengono poi indicati da un numero razionale assoluto, saranno poi occupati dai numeri irrazionali, ossia non razionali. Vi ricordo, razionale deriva da razio e latino, ossia rapporto, quindi tutti quei numeri che sono scritti sotto forma di frazione. Grazie.